scoperto dall'attrice capocomica Paola Pezzaglia, che gli offre la sua prima scrittura teatrale come «Brillante» nel dicembre del 1916. Esordisce in modo avventuroso, essendo mancato alla riunione della compagnia il primo attore. Toccano a lui tutte le parti importanti di uomo. Si specializza poi nel genere leggero e nella rivista. A partire dagli anni trenta lavora anche nel cinema, affermandosi come uno degli attori brillanti più celebri del cinema sonoro. Cavalleria, non ti conosco più, due milioni per un sorriso. L'amore si fa così, anche se sarà quasi sempre relegato a ruoli da spalla o da comprimario. Figura elegante e sottile, riconoscibile per i capelli perennemente impomatati e i baffetti curati. Interpreta spesso personaggi di nobile decaduto o di vivore importuno e talvolta rompiscatole. Ma sempre fondamentalmente onesto, spesso veniva scambiato per il suo collega Giuseppe Porelli. Negli anni 50, pur continuando la sua carriera nel teatro di rivista dove affianca personaggi come Wanda Osiris, Olga Vigli ed Isa Barzizza, interpreta decine di film di genere. Anche se non mancheranno occasioni d'autore come Nei vitelloni di Federico Fellini in cui gli viene affidata la parte del padre di Moraldo.